E' stata inaugurata a Bari, presso la Fiera del Levante, la rassegna delle macchine e delle tecnologie per le filiere agroalimentari nel Mediterraneo. La rassegna è in programma fino a domenica. Sentiamo l'assessore regionale, Leo Di Gioia. Per il sistema agricolo, avere una vetrina a livello regionale, ovviamente su base meridionale, che consenta di verificare le innovazioni tecnologiche, che ci metta al cospetto dell'intero Mediterraneo e quindi diventi punto di attrazione di altre nazioni, è una funzione essenziale. Quindi ovviamente la regione si fa promotrice assieme a coloro i quali organizzano, alla presidenza della Fiera, alla stessa associazione dei produttori per dare maggiore corposità a questa iniziativa, per trarne il maggior beneficio, per avere la migliore innovazione a disposizione. Il mondo agricolo è un mondo nel quale oggi si sperimentano le tecnologie più avanzate, la meccanica più avanzata, l'informatica anche inizia ad essere un elemento determinante per quei sistemi di automazione, quindi noi oggi abbiamo un grande interesse a promuovere queste iniziative e a farla diventare un'iniziativa stabile nelle forme e per me è stabile anche nei risultati in un contesto ovviamente dinamico rispetto al quale ci confrontiamo.